A Comiso, incontrata Billoni, i carabinieri non credevano ai propri occhi quando si sono visti davanti una distesa di serra con oltre 700 piante di marijuana. Una scoperta è arrivata al termine di una serie di osservazioni, controlli e pedinamenti che hanno permesso di appurare come all'interno dell'area agricola si svolgesse da tempo un'attività illecita. Le piante, rinvenute dall'altezza variabile a 50-100 cm, erano accostate vicine con la tecnica del cosiddetto furisuolo sin sostituzione del terreno agrario con un impianto di irrigazione. Durante la perquisizione erano rinvenute anche 150 grammi di stupefacenti assiccate e pronte alla vendita, cartucce calibro .365 illegalmente detenuti e diverse lampade alogene per riscaldamento complete di riflettori. Inoltre è stato appurato che l'allaccio alla rete elettrica era abusivo. Sono stati quindi arrestati il proprietario del terreno, Vincenzo Zago, di 57 anni, e la convivente di 68, Vania Cristina De Sosa. Quest'ultima però ai domiciliari devono rispondere di alcuni reati che vanno dalla coltivazione e detenzione ai fini di spaccio al furto aggravato di energia elettrica per finire la detenzione abusiva di munizioni. In corso ancora accertamenti per approfondire alcuni aspetti della vicenda che potrebbe avere ulteriori sviluppi. Vincenzo Zago